Siamo alla fine ormai della stagione estiva, la ROC è stato un punto di riferimento importante per tutta la città a livello spettacolare. Quest'anno, ancora più degli anni precedenti, è diventato un centro importante di scambio tra l'arte, la cultura e l'integrazione sociale. È stato un contenitore dove hanno interagito tra loro tanti aspetti della nostra città. È stato un luogo di aggregazione, abbiamo avuto una partecipazione che è stata increscendo, sia durante l'estate ma anche rispetto agli anni precedenti. Quindi possiamo dire che si conclude questa manifestazione estiva con un grande successo. Noi abbiamo già rilevato come la ROC abbia bisogno comunque di una manutenzione continua, assolutamente. Vogliamo che non sia soltanto un contenitore per eventi artistici, ma che sia anche un bene monumentale, fruibile da parte dei turisti, da parte della città, proprio per il bene in sé stesso. Quindi sarà nostro impegno cercare di verificare le condizioni reali delle mura, soprattutto del maschio, della rocca e verificare poi quali possono essere gli interventi necessari per la conservazione del bene. È possibile sognare con la ricostruzione del maschio? Beh, qui i sogni se ne possono fare tanti nella nostra città. Dobbiamo solo stabilire quelle che sono le priorità. Io continuo a ripetere che la prima priorità è San Pietro in Valle. Tutto il resto poi verrà in conseguenza. Si è conclusa anche la serie Comizi d'Amore, una serie di tanti incontri, di tanti spettacoli che si sono svolti alla Rocca Malatestiana. Massimo Pugliani è un consuntivo di questa iniziativa. La particolarità di Comizi d'Amore è stata proprio quella di interagire tra il locale e il nazionale. È proprio un nuovo palcoscenico identitario per Fano, nel senso che molte iniziative, nove, undici invece è la rassegna Musicology. Queste nove iniziative si trovavano solo a Fano, quasi una media di 500 persone a serata, quindi è un bel risultato pensando anche a Musicology Live che ne presentava undici di eventi concerti, una storia della musica dal vivo. È stato dato il segno che si può scommettere sulla produzione e per questo che io penso che se c'è una volontà di segnare il futuro è quello di giocare la parola sistema coordinato. Nel momento in cui ci uniamo tutti insieme per rilanciare a Fano devono passare dei progetti di grande rilievo anche nazionale.